ditemi che non è vero voi ditemi che non è vera sta cosa allora società ormai si è ma peggio ma oltre che peggio della peggiore della peggiore intro ma siete diventate va bene veramente una barzelletta siete diventati ditemi che non è vera e che voi non sapevate niente di questa cosa qua io mi auguro che voi non sapevate niente di questa cosa qua perché veramente veramente voi vi meritate vi meritate veramente di essere presi a pedate in faccia ma di che cazzo stiamo parlando un giocatore preso già rotto e che io io da parte mia ho capito l'operazione solo per questione di merchandising e di brand per vendere magliette eccetera eccetera un giocatore che non gioca infortunato che prende 8 milioni più 2 di bonus all'anno adesso è positivo al testosterone e va a inguaiare una società che già è inguaiata per i cazzi suoi e voi in società che cazzo combina ma che cazzo state combinando ma cosa cazzo state combinando ma voi veramente ma voi credete che noi tifosi dobbiamo continuare a sopportare una società di pagliacci del genere ma veramente ci fate o ci siete io ma ma speriamo che sia vera quella cosa che vendi la società tu Elkan la devi vendere non è per te questa non è per non è mestiere tuo né tuo e né di quegli altri quattro scappati di casa che c'hai lì ma di che cazzo stiamo parlando ma voi portate in panchina poi un giocatore penso che la prima partita utile almeno era in panchina questo se non sbaglio era in panchina voi lo portate in panchina e sì perché se gli hanno fatto l'anti doping quindi era pure in panchina senza fargli un controllo prima ma di che cazzo ma basta 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 non vi sopporto più non vi sopporto più ma che cazzo siamo diventati ma ma siamo la barzelletta delle barzellette ormai qua o madonna santa madonna santa ma che cazzo hanno fatto i tifosi giuventini di male per questi quattro figli di troia ma che cazzo hanno fatto ma io non io non ho più parole io non ho più parole io spero che sia un errore io spero che la società non sapeva niente di questo spero per voi perché se no voi dovete mettere la testa sotto la sabbia come gli istruzzi e dico la sabbia perché sono una persona educata per non dirvi che dovete buttarvi in una fogna e chiudere il coperchio ma che cazzo fate oh madonna santa madonna ma robe da matti ma non ci posso credere io non ci posso credere io non ci posso credere io non ci posso credere a questa cosa qua smentitela fate qualcosa fate qualcosa smentite sta cosa qua oh madonna mia oh madonna mia ma io 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 veramente veramente ma ma che cazzo state facendo ma che cazzo state combinando rescindete il contratto a sto pagliaccio qua rescindete il contratto di sto pagliaccio Pogba vattene a fare il culo basta Pogba basta c'hai preso per il culo due anni basta sparisci vai in arabia vai a fare il culo vai dove cazzo ti pare vai via dalla juventus ma c'è c'è quale volete distruggere tutto dall'interno qui c'è un cavallo di famoso cavallo di troia che vi parlavo già tre anni fa ma la state distruggendo dall'interno la state distruggendo dall'interno questa società ma non è non è più possibile non è più accettabile questa cosa qua mannaggia la miseria puttana mannaggia ma io io non ci posso credere dovete chiamare il procuratore di Pogba e rescindere sto cazzo di contratto basta soprattutto se se risulta questa cosa com'è e io voglio credere spero che la società non ne sapeva veramente nulla di questa cosa qua a parte che voglio sapere il j medical che cazzo sta a fare che cazzo fate in quel j medical lì questa è una cosa dovete rescindere il contratto immediato rescissione immediata del contratto oh madonna di cristo ma guarda ma io non ci posso ma non basta tutti i cazzi che ci abbiamo tutti i guai che ci abbiamo ci devo aggiungere quest'altra cazzata qua io non ho più parole io veramente ma veramente ma siete ridicoli e dobbiamo dirlo siamo diventati la barzelletta delle barzellette la barzelletta delle barzellette siamo diventati e basta tutti i giorni ce n'è una tutti i giorni e non troviamo le scuse che gli altre società gli altri di quali le altre società sono piene di merda anche loro ma saranno cazzi loro va bene io guardo a casa mia e a casa mia è pieno di merda va bene è pieno di merda e quindi dobbiamo parlare dei cazzi di casa nostra non pensare all'inter alla roma al napoli al milan e ma pure quello e ma pur non me ne frega un cazzo seppure quello cosa mi interessa seppure quello quindi ti fa sentire meglio non mi interessa non mi interessa contro gli altri topic ci sono della vita non ci voglio credere ditemi che è una bufala ditemi che state scherzando e ditemi che ve ne dovete andare a fare in culo perché avete rotto i coglioni ciao a tutti